Ci siamo focalizzati su un livello economico, un livello manageriale che vada in modo marcato anche qui a vedere come le aziende possano competere grazie degli incentivi sia a livello pull, quindi a livello di mantenimento della domanda, sia a livello push, ovvero quando uno Stato riesca in qualche modo a mantenere il sistema di ricerca in vigore e in modo dinamico. A questo riguardo sono state due le tematiche che ci hanno permesso di guidare il lavoro, ovvero quella dello stop ai motori termodinamici, quindi motori a combustione interna, a favore della mobilità elettrica, ma soprattutto del nuovo progetto di riforma in Germania della metodologia di riscaldamento degli immobili privati verso delle forme di combustibile più sostenibile. Queste sono state le due grosse domande che ci siamo posti, quali effetti potrebbero avere a livello sociale? Ci sarà una, diciamo così, accettazione generale della popolazione o sarà maggiormente più combattuta e poco compresa dalle varie classi sociali?